Alluvioni, nubi fragi e esondazioni dipendono da estremizzazioni meteoclimatiche in atto, dicono gli esperti. Abbiamo a che fare con suoli saturi che oramai non riescono più a recepire, tra virgolette, tutta la quantità di acqua che sta precipitando dal cielo e quindi tutta questa acqua ruscella verso le aree morfologicamente più depresse. Ma in questo quadro l'uomo non è esente da responsabilità. Abbiamo a che fare con una cattiva manutenzione del suolo, abbiamo a che fare con un'enorme difficoltà nel gestire quel po' che di resiliente è rimasto di fronte a un'antropizzazione estrema che si è avuta negli ultimi 50 anni. Nonostante piani di adattamento, piani energetici, strumenti di pianificazione territoriale, non si riesce a fronteggiare questa situazione. Evidentemente ci troviamo di fronte a una realtà sociologica che non riesce purtroppo a recepire questa drammaticità e che quindi deve essere assolutamente educata da un punto di vista ambientale.